Se già in registrazione, comunque. Buonasera a tutti, sono IconicaFuglia Delta. No, rende sei Mario Marietti. Posso startare? Posso startare? Sì, ma penso che tra un venti minuti me ne vado a Ciuena. Sì, come dice Michele... Tenaiuto, barbiere? Tenaiuto... Interrumpi Giotto Vocale, cosa? Ah, ok, ho fatto... ok, scherzavo. Come ha detto Michele... Non diventare al barbiere! A chi no dentista? A chi ha lato? E perché non ti ne va a fare in c***o? Ma quando... ah! Ho già frato! Non mi è stato troppo bello. Vabbè, però ragione. Eh, appunto, Giulietta, un saluto da chi ha fatto la partita. Ma perché mi da... 23 fps? Cosa sta succedendo? Ti sto caricando. Double caricamento. Ma stai renderizzando ancora? Sì. È lo suo elemento. È lento. Ok, ci sono. Ma stai renderizzando? No, no. Mi devo fare... La sensibilità, la sensibilità del male. Sì, ma pure io. Mamma mia, che brutto! Ma non si può mirare sto cosa? C'è che si può mirare? Ah, no, dipendermi no. Dove aveva mitragliatrici pesante? Alziamo ancora un po' la sensibilità. Sì. Ah, no, lo sto finendo. Puoi sparare ai compagni. Sto facendo, Alice. Ah, però... Ah, io ho tolto un fioletto di vita. Sì. Ma... In cosa consiste? Devi prendere un fucile e una pistola. Allora, non ti ricordi. Ok. No. No, io voglio la pistola come seconda volta. Questa è una siringa e questa è... Ok. Ok. Ma quanto si può correre sto gioco? No, è come il CS. Che c'è sta cosa? Ma questo è più medicinale. Eh, dovremmo trovare una molotov. Che c'è roba essa. Ma come si mira? Ah, è tipo... E come Left 4 Dead, come cosa. Non si mira. Ma dove stiamo andando, Mario? No, dobbiamo andare verso quella parte. No, di quella parte per cercare se c'era qualcosa. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Ok, andiamo. Usa la radio. C'è una padella da usare come seconda volta. Tu che è come primaria? Eh, un fucile assalto. Perché sono così coglione? No, qua c'è una tannica di benzina. Solo che che ci dovremmo fare anche da terra. Ti rendi conto che mi sto curando? Ah, qua non dobbiamo fare niente. Eh, aspetta, sei perso la cosa? Valla... Cosa? Ah, è cominciato, vabbè. Ma da dove vengono che ho la molotov? Di un necchia. Vabbè, la putta lì. C'è una chitarra per combattere se vuoi. Mamma mia, che bello. Guarda tantissimo che non ci giocavo. Ah. Mario, non c'è un aerico. Si edito 8 al min. Mi spadavo. Sotto il tema dureremo una poco di più. Non è una molotov dito? Si, ce l'avrai. Ma non sarebbe proprio... Male. Si, ma non è solamente uno. E stai bruciando la nostra compagna, pure. Ma c'è una tonica di benzina qua? Si, si, la vedo. Però se la fai esplodere moriamo tutti. Dobbiamo... Raccogliare le toniche di benzina conmigo. Che cazzo... Vabbè, la tonica c'è finita. L'hai visto chi c'è? Sì, ma qua la tonica di benzina ci mette. Aia, ma no... Ma... Cosa sta succedendo? Oh mio, mi sta andata... Mario! Si è basso di vita. Si, mi sto curando. 51. Il problema è che non so come si fa l'attacco corpo a corpo. Eh, tasto sinistra del mouse. Ah, vero, vero, vero. Tu quanto sei di vita? 87. Ma... C'è un coso il cringe di merda qua come cazzo si chiama? Basta. Che bordello. Siamo minuto e 50. Ehm... Ma come si fa a fare lo scope? Ho tirato la granata. Levati. Aia no, ma non ha tirato, ma ha tirato quella la. Aiuto, aiuto. Grazie. Aia. No, Dio, Mario! Aiutami! Ma te l'ha ammazzata qua. Si, ma c'è quella enorme. Aia, ma buttata a terra. Aia! Siamo a terra. Lo so, si sta atturando. Fica, siamo uno scarsi di più. Vabbè, che siamo... Ma che cazzo... Aia! Aia! Grazie. Sarebbe meglio se ci curiamo, ma... Ehm... Sì. Guardi, guardi, piglia il medico. Dov'è? Ce ne abbiamo anche due a terra. Ce l'hai? No, non ce l'ho il medico il tiro. Sì, sì, ce l'hai. Ah, no, l'hai appizzata. Allora piglia un medico il tiro. Vieni, segue. Ok, stiamo tirando poco. Qualcuno mi curò. Qualcuno mi curò. Non vede che... Io non mi ero. Vaglia. Ma lì sei morto. Lo so. Anche sono morto. Ehm... Ho tenuto la medaglia di bronzo. Ma per che cosa? Eh, tipo per il tempo che siamo resistiti. Minchata, mi stanno ammazzando malissimo. No. Mamma Zotano. No, mi ha ucciso, mi ha ucciso. Datemi una mano. Eh, sono morto. Sono morto. Mamma mia. Passire al mouse. Modifica, passire al mouse. Shift, mamma mia. Cal. Combattimento. Ma sono poco. Ho spinto dei miei. Se non mi fai facendo un supporto. Beccato. Ho. 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 Ciao Mario. Ciao Mario.